La strage delle ragazze e lo sbarco di ieri mattina rimarrà a lungo nella mente di quanti al molo Manfredi hanno accolto la nave militare spagnola Cantabria che trasportava 401 migranti ma anche 26 cadaveri di donne recuperate in mare dopo due giorni dopo il nafraggio di un gommone. E sì perché pare che quelle donne siano state caricate su un gommone forse dopo aver subito violenze di ogni genere e con la consapevolezza che qui non sarebbero mai arrivate perché nell'entroterra africano le donne non sanno nuotare. Tutte giovanissime le vittime avevano tutte tra i 14 e i 18 anni probabilmente nigeriane alcune di loro in grembo portavano i figli che non sarebbero mai nati e morti durante un viaggio senza ritorno perché quel gommone come era nelle previsioni è naufragato durante il tragitto. E' stata ribattezzata la nave del dolore, nessun sorriso all'arrivo ma solo tristezza, commovente e straziante per i presenti la scena della discesa delle lettighe dentro avvolti ad uno ad uno i cadaveri delle 26 ragazze. Una tragedia per l'umanità l'ha definita senza mezzi termini il prefetto di Salerno Salvatore Malfi. Intanto la procura salernitana ha aperto un'inchiesta. Il PM Luca Masini ha disposto già ieri l'esame esterno dei corpi delle vittime e test per verificare se abbiano subito violenze sessuali. Scattata intanto la macchina della solidarietà per assicurare alle vittime del mare almeno una degna di sepoltura. Saranno ospitate nei cimiteri di Salerno e di altri comuni della provincia. Due persone sono state intanto fermate sul fronte delle indagini, un libico ed un egiziano che potrebbero essere gli scafisti. Colpisce il fatto che le vittime siano tutte donne. Al momento l'ipotesi prevalente è quella dell'annegamento. Il barcone è affondato e le donne purtroppo potrebbero aver avuto la peggio in quanto soggetti più deboli, ha dichiarato il prefetto. Ma gli inquirenti non vogliono lasciare zone d'ombra. Sono in corso indagini più approfondite su 5 migranti a bordo. Le 26 salme sono state portate nella sala mortuaria del cimitero di Salerno in attesa dei tempi necessari per l'effettuazione dell'autopsia affidata al professor Antonello Crisci, perito della procura di Salerno che ha avviato l'inchiesta. Sulla nave spagnola i cadaveri erano stati congelati per consentirne la preservazione e la possibilità di effettuare l'autopsia. Dopo l'esame esterno sarà l'autorità giudiziaria, viste le risultanze, stabilire il prosieguo delle indagini. Nell'arco di una settimana dovrebbero essere completati i primi esami, poi bisognerà effettuare gli accertamenti istologici, tossicologici e quanto necessario per delineare cosa sia realmente accaduto. Resta lo sconcerto e la rabbia dell'opinione pubblica, ma soprattutto dei tanti che continuano ad adoperarsi per salvare soprattutto donne e bambini che di fronte ad una simile tragedia restano sempre più disarmati. Intanto le operazioni della questura di Salerno connesse allo sbarco hanno consentito di accertare che i 427 migranti sbarcati dalla nave Cantabria provenivano da tanti paesi, Camerun, Nigeria, Libia, Guinea, Mali, Costa d'Avorio, Egitto, Togo, Sudan, Ghana, Sierra Leone, Marocco, Egitto, Camerun, Palestina, Namibia, Libia, Congo, Sierra Leone, Ciad, Siria, Sudan e Senegal. 247 sono di sesso maschile e 85 di sesso femminile. I minori appartenenti a nuclei familiari sono 24, mentre quelli non accompagnati sono 18. Questi ultimi sono stati affidati alle strutture di accoglienza di tutta la provincia di Salerno. Nel corso dell'attività di polizia sono stati adottati 6 provvedimenti amministrativi di respingimento nei confronti rispettivamente di 3 egiziani e 3 marocchini. 311 migranti sono stati trasferiti secondo il Piano Nazionale di Ripartizione presso le regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto e Lazio. Grazie.